Oggi voglio stare un attimo insieme con voi con una frase di Ezio Bosso proprio per dedicare un momento e un tributo a questa persona così speciale, così splendida e che nella difficoltà la vita ha contribuito a rendere ancora più splendida. La musica ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo, insieme. Un abbraccio.